benvenuto in salisburgo ragazzi benvenuti a salisburgo le ferie sono cominciate e quindi abbiamo deciso di venire a visitare questa città siamo venuti in campeggio con la nostra roulotte ve lo faccio vedere questo è l'ingresso è molto carino come posto questo è l'hotel che ci ospiterà per otto giorni a a a a a a Grazie a tutti In uno di questi quattro organi si allenava Mozart Dopo questo getto un po' sconclusionato nel centro di Salzburg Siamo tornati in campeggio perché comincia a piovere Monopattini a riparo e si ritorna in roulotte Grazie a tutti Secondo giorno a Salzburgo Siamo venuti a vedere le miniere del sale Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Belle consigliate Tu cosa ne pensi? Bellissima Un po' care però dai ne vale la pena Qualcosa di diverso dal solito Ci sono giochi di luce, ci sono scivoli Bello bello E ora si ritorna a Salzburgo Salisbargan Una delle cose più belle da fare in viaggio è associare i prodotti tipici del posto Quindi anche noi abbiamo deciso di venire da McDonald's È bella come città, il problema è che di sera non c'è vita È una città che vive solo di giorno Alle 10 si va a letto Io spero ancora Di pari che stacchano in un'occhreddo Di pari che stacchano in un'occhreddo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti